Mi hai in squadra? Alcuni vecchi amici? 13.30 con un nuovo appuntamento del TG COD in live su Twitch amante trattino basso COD Bene, ieri sera vi ho mostrato praticamente proprio in tempo reale le prime killstreak svelate di Call of Duty Modern Warfare Andiamole subito a vedere così facciamo il punto della situazione e parliamo anche delle altre notizie uscite successivamente sul nuovo titolo dell'Infinity World Vi ricordo e vi aspetto il primo di agosto alle ore 18 su Twitch perché seguiremo i primi gameplay in live del multiplayer Bene, le serie di uccisioni sono tornate, andiamo a vederle Innanzitutto il veicolo d'assaltofanteria, un carro armato leggero con sopra una mitragliatrice calibro .50 Il fosforo bianco copre il campo di battaglia con cartucce di fumo bianco che disorientano il nemico e bruceranno coloro che si avvicinano troppo E poi c'è il juggernaut di cui avevamo parlato tantissimo nei giorni passati e nelle settimane passate Quindi confermato ufficialmente chiama un pacco assistenza che contiene l'equipaggiamento d'assalto juggernaut Quindi quando era stata svelata l'immagine appunto del juggernaut era relativa praticamente al multiplayer Notizia molto interessante in merito al juggernaut Uno streamer molto famoso praticamente che aveva già provato il titolo Ha dichiarato infatti che era riuscito ad ottenere questo pacchetto praticamente del juggernaut Quando aveva provato Mother Warfare nell'evento privato a porte chiuse a maggio Aveva ottenuto ben 20 uccisioni con questa kill streak e poi purtroppo è morto Il gioco sembrerebbe che riproduca una straordinaria musica heavy metal Quando praticamente stiamo devastando i nemici appunto con questa serie di punti TGR poi ieri sera ha annunciato che la nuke è attualmente impostata a 25 kill di fila Ma sta venendo testata a 30 per vedere come bilanciarla Però tutto è soggetto a cambiamento Non tutte le kill streak saranno presenti nella beta È stato smentito che troveremo delle unità K9 oppure una kill streak con i cani all'interno del gioco E sembrerebbe che troveremo addirittura un perk all'interno del titolo Per avere le score streak all'interno del gioco Quindi farle funzionare come score streak e non come kill streak Quindi dovrebbe esserci praticamente una vera e propria funzionalità Un vero e proprio perk Inoltre TGR svela che potrebbero esserci presenti delle mimetiche per le kill streak Se verranno messe ufficialmente le potremmo vedere però soltanto dopo il lancio di Call of Duty Modern Warfare Chiudiamo il video informativo con una curiosità Quando praticamente abbiamo visto l'annuncio delle kill streak ieri sera delle prime tre In molti anni ha ipotizzato che tutte le casse che vediamo intorno appunto a questa immagine Possano essere dei sappli drop Moltissimi ne hanno parlato proprio ieri sera E quindi sostengono che nell'immagine di copertina vi siano visibili i sappli drop Sarà vero o sono soltanto oggetti di sfondo dell'ambientazione? Staremo a vedere ragazzi Intanto qui sotto fatemi sapere voi che cosa ne pensate Vi aspetto oggi alle 13.30 su Twitch per il nuovo appuntamento con il TG Code in live E vi aspetto su Telegram amante TG Code per tutte le notizie di Call of Duty in tempo reale E noi ci vediamo ad un prossimo video